Perché sappiamo che siamo in un momento di cambiamento, di transizione, abbiamo da meno di tre settimane un nuovo governo, c'è stato il famoso passaggio della campanella che denota il cambio di governo. Noi naturalmente valuteremo il governo per le cose che farà, noi abbiamo rispetto per istituzioni, abbiamo rispetto innanzitutto per il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ci ha condotto in una crisi molto complicata con saggezza e rispetto dei principi costituzionali e non era facile.